Mailboxis a Cava dei Tirreni, unica sede in via Vittorio Veneto 19, soddisfa tutte le tue esigenze. Alla fine la prima vittoria assoluta in campionato per la nocerina femminile è arrivata. Le rossonere hanno approfittato del turno a loro favorevole e nell'undicesima giornata del campionato di eccellenza hanno superato nettamente il Mugnano per 10-0. Zollo e Mervoglino, i due tecnici, avevano a disposizione più giocatrici rispetto alla precedente sfida persa con Ischia e la squadra è andata in rete per tre volte con Lodato, per due volte con Coppola e una volta a testa hanno segnato Armenante, Sica, Fiorenza, Criscuolo e Coccia. La sfida nocerina-Mugnano si è giocata domenica scorsa a Casignano. Nocerina ora ha tre punti, Mugnano sempre a quota zero avendo perso sul campo tutte le partite. Le rossonere domenica 22 non giocheranno in quanto avrebbero dovuto affrontare l'esclusa Virtus Volla. Torneranno in campo direttamente il giorno 29 contro Santa Anastasia, proprio a Casignano, nella gara che concluderà il girone di andata. Sarà la terza di quattro gare consecutive in casa perché al girone di ritorno la squadra nocerina ospiterà la Grumese.